Buongiorno a tutti, è il giorno dopo il consiglio dell'Eurogruppo e quindi possiamo ragionare su che cosa è successo dopo tante aspettative. Francamente leggiamo il testo che sarà a disposizione anche su Transform, il giudizio non può essere positivo, anzi per quanto mi riguarda è decisamente negativo, sia nel merito delle proposte che sono state recepite dentro il testo sia nel contesto in cui esse stanno. Partire da questo secondo aspetto, il contesto ribadisce l'impianto esistente e quindi in ogni parte dell'accordo si ripropone il tema che poi si deve tornare prima possibile a quelle che sono le regole della stabilità finanziaria che sono previste dagli accordi vigenti e quindi il semestre europeo che farà i conti dei debiti e dei deficit e che rimane in vigore e il patto di stabilità che è stato sospeso ma che tornerà ad essere in vigore. E quindi le misure che sono addirittura quattro, una cosa complicata, tre certe e una molto incerta, si dovranno confrontare con questo tema che alla fine questo debito comporterà delle conseguenze significative. Vediamole insomma. La prima cosa è che c'è il MES, il meccanismo cosiddetto di aiuto agli stati che si dice non è condizionato, non sarebbe condizionato per la parte che riguarda le spese sanitarie mentre sarebbe condizionato per quanto riguarda eventuali spese economiche. Ora è evidente che se tu poi mantieni l'impalcatura che controlla l'insieme del debito è chiaro che questo non condizionamento in realtà non esiste, cioè il condizionamento c'è sempre. Se tu produci nuovi debiti anche attraverso le spese sanitarie è evidente che poi verrà la tagliola della verifica dei conti che avviene nel semestre europeo. Dunque è rimasto un meccanismo che è quello che è, è un meccanismo di prestiti che prevedono una restituzione, una restituzione che nel caso appunto di necessità di finanziamenti sulla parte economica e sarà difficile non avere necessità economiche sono pesantemente condizionati. Ma soprattutto è un meccanismo che non è un meccanismo di intervento diretto dell'Europa ma di prestiti tra stati particolarmente odioso se era detto no al messe invece il messe c'è. Poi ci sono altri due meccanismi, il SURE che è anch'esso garantito dagli stati attraverso un reperimento di fondi che poi devono essere però anche in questo caso restituiti dagli stati stessi che serve per la cassa integrazione ed è un meccanismo che peraltro allude a un'idea che ha avuto già la presidente Ursula von der Leyen di una specie di assicurazione sostanzialmente privata sulla disoccupazione da mettere in piedi in Europa e quindi è un meccanismo che grava sul debito e che crea un rapporto con la cassa integrazione e con il debito che ne consegue che libera un po' le aziende dalla loro responsabilità e grava ulteriormente gli stati oltre ad essere minimo naturalmente mentre è più sostanzioso il finanziamento che va verso le aziende che viene dato dalla banca europea degli investimenti che è anch'essa finanziata dagli stati e quindi tre voci che contemporaneamente contribuiscono a aumentare il debito degli stati. Quarta voce è quella cosiddetta del fondo recovery di cui però siamo all'impegno alla discussione in cui l'elemento certo che sta scritto è che si fa riferimento al bilancio europeo e quindi è un bilancio molto estremizzito e anch'esso alimentato dagli stati mentre le cosiddette misure innovative sono tutte da vedersi. Di fatto c'è il MES non ci sono gli euro bond non c'è l'uso della BCE così come poteva essere doveva essere. Nello stesso giorno in cui si è riunito l'euro gruppo l'Inghilterra la mattina ha deciso e ha dichiarato che appunto non utilizzerà prestiti finanziari ma stamperà tutto il denaro necessario. Nostalgia per una moneta? Nostalgia per l'inflazione da parte mia? No, non questo. Nostalgia per una moneta europea che funzioni come una normale moneta di qualsiasi unità politica e quindi di una banca che funzioni come una normale banca così come funziona la banca di incontrare le esigenze della popolazione e poi di difendersi da un'eventuale inflazione anche con un meccanismo come quello di titoli garantiti però dalla banca stessa. Questa normalità in Europa non è data e quindi siamo dentro un meccanismo faragginoso che preoccupa moltissimo perché quando l'Italia probabilmente arriverà a un debito che si aggirerà intorno al 160 per cento del PIL sarà complicato di entrare nelle regole del semestre europeo e quindi altro che non condizionamento, altro che sicurezza di non ricorso alla Troica. Naturalmente tutto questo è in capo a come funziona l'Unione Europea. Ora vedo la destra di Salvini che si lamenta di questo accordo io penso che loro non possono parlare da questo punto di vista perché l'impostazione tra nazioni in cui è incastrata questa Unione Europea fa sì che non funzioni normalmente e contemporaneamente gran parte delle nazioni che fanno riferimento ai movimenti della destra italiana hanno combattuto contro i meccanismi comuni che devono essere messi in campo però rimane il merito dell'accordo e il merito dell'accordo è per quanto mi riguarda profondamente negativo e non capisco quale via libera possa avere dal Parlamento un accordo che prevede il MES e non gli euro bond che prevede debito aggiuntivo e che sulla condivisione del debito non ha nulla e dunque non capisco come possa essere approvato laddove era stato detto esattamente il contrario. Si poteva a fare diversamente io penso proprio di sì si poteva e si doveva e si dovrebbe usare la BCE come fanno gli paesi normali e semmai ricorrere a titoli condivisi realmente i veri euro bond come fanno tutti i paesi normali laddove c'è bisogno di un sostegno oltre quello della moneta che si stampa e poi ci sarebbe bisogno di politiche economiche che siano in senso innovativo non si può dire che bisogna evitare nuove discriminazioni interne all'area europea e poi fare riferimento semplicemente alla continuazione delle politiche di mercato abbiamo bisogno di ben altro abbiamo visto a che punto ci hanno portato le politiche di mercato al bisogno anche di giustizia fiscale di leggi come la patrimoniale come imposte progressive e invece siamo in un'europa dove appunto i paradisi fiscali prosperano un cattivo accordo credo che sarebbe normale portarlo in parlamento e per quanto mi riguarda penso che questo accordo non dovrebbe essere approvato e bisogna c'è un nuovo appuntamento del consiglio europeo con i leader bisogna riaprire la trattativa per fare quello che si era detto togliere il mess del tutto e costruire un vero intervento condiviso attraverso la BCE e gli eurobond un saluto